Buongiorno ragazzi, oggi trattiamo un argomento molto scottante e che se è possibile, nel senso che se ci sono ancora persone alle quali non sto sulle palle, con questo video abbiamo definito completamente e abbiamo completato l'album. Come sempre cercherò di essere meno incisivo possibile ma nel mio stile dirò le cose come stanno senza tanti giri di parole, senza girare intorno ad una piaga sociale. L'obesità, noi viviamo anzi in un mondo obesogeno, cioè la nostra società per quanto faccia vedere modelli di perfezione in realtà mette in continuazione sotto il naso e nella bocca di tutti noi degli stimoli obesogeni, degli stimoli che prevedono quantità di cibo incredibile disponibile a qualsiasi ora del giorno e della notte, è soprattutto ipercalorica, ipergustosa e anche soprattutto in questo periodo bella da vedere, quindi eccessivamente attraente. Allora cerchiamo intanto di classificare le tipologie di obesità. Quali sono i parametri che si utilizzavano? Dico si utilizzavano perché ormai è desueta ed è obsoleta questa misurazione. L'IBMI, cioè attraverso una bilancia impedenziometrica alla percentuale di grasso, che però è un modo ormai troppo vecchio per calcolare gli indici. Come più volte ho detto, se un culturista che è al 5% di grasso sale su una bilancia impedenziometrica, secondo quei parametri risulta obeso, perché magari è alto 1,80 m, pesa 140 kg, però ha 120 kg di muscolo e ha il 5% di grasso, quindi non sono ormai più dei parametri da poter prendere in considerazione. Quindi esistono degli obesi sani. Quante volte voi avete parlato o siete voi stessi delle persone obese che però hanno degli esami del sangue perfetti. Ciò nonostante il vostro aspetto e il vostro stato, la vostra percentuale di grasso è da una persona assolutamente obesa. E questo è una cosa gravissima perché la persona obesa che ha gli esami del sangue perfetti si vanta di questo e si croggiola del suo apparente stato di salute sano. Poi ci sono gli obesi normopeso, che hanno un peso normale, secondo la loro altezza, secondo la loro struttura fisica, però hanno una percentuale di grasso importante, cioè non hanno muscolo, sono completamente ricoperti di grasso, ma il loro peso è apparentemente normale. Poi ci sono gli obesi magri, che sono le classiche persone, pensate al classico uomo di mezza età, il classico uomo della mia età, tra i 50 e i 60 anni, magro, senza culo, con le gambe come due stecchini, con la panza. Quello è un obeso magro perché la sua percentuale di grasso, soprattutto concentrata sull'addome, è molto, molto pericolosa. Da cosa dipende in realtà l'obesità? L'obesità dipende da due importanti fattori, uno purtroppo genetico. Ci sono degli studi che dimostrano che fattori genetici, quindi genitori obesi, mettono al mondo figli con l'epigenetica, quindi con una genetica unita a quello che vedremo dopo, un ambiente che è propedeutica e favorevole all'obesità. Quindi è quasi scontato che figli di genitori obesi siano obesi anch'essi, proprio per un patrimonio genetico di adipociti, metabolico che porta all'obesità. Un altro fattore molto importante, determinante, è l'ambiente in cui si vive. Ecco perché si parla di epigenetica, quindi si parla di genetica unita all'ambiente ed è un fattore molto importante. Se i nostri genitori sono obesi o sono comunque in forte sovrappeso, se non vogliamo accettare questa parola obeso, avranno uno stile di vita e ci educheranno a uno stile di vita alimentare totalmente sbagliato che ci porta e favorisce alla nostra obesità. Pensiamo al modo di educare che si utilizzava un tempo dove il cibo non si butta, quindi porzioni abbondanti e tu devi mangiare tutto, devi finire tutto. Il fatto che molto spesso queste persone ovviamente non mangino per una regola omeostatica, cioè di equilibrio, mangio perché devo vivere, quindi utilizzo il cibo come carburante per il mio corpo, no, mangio per il piacere di mangiare e quindi anche un normale pranzo di un giorno feriale, non il pranzo della domenica, prevede l'antipasto, il primo, il secondo, il contorno, il vino a tavola non deve mancare e chi più ne ha più ne metta, quindi predomina il gusto e non il fatto che il cibo deve essere principalmente un modo per far funzionare al meglio la nostra macchina corpo umano. Quindi le abitudini, quanto sono diciamo importanti e che cosa causano queste abitudini? Quando io per anni ho abituato il mio cervello ad assumere cibo per il piacere, la stimolazione della dopamina che deriva dall'assimilare e dall'assumere cibo di un certo tipo resta nella nostra memoria. Ecco perché le persone obese fanno molta più fatica a dimagrire rispetto alle persone tra virgolette in normale sovrappeso. Non tanto perché uno debba perdere 50 kg e l'altro ne debba perdere soltanto 10, ma perché la persona che deve perdere 50 kg ha vissuto sempre a contatto e in un ambiente di un certo tipo e ha nella propria memoria impresse determinati concetti e determinati abitudini e determinate reazioni chimiche all'interno del nostro cervello che lo pongono di fronte a sacrifici disumani per poter dimagrire. Ecco perché le persone obese hanno una fragilità emotiva altamente sensibile e altamente labile. All'interno dei miei percorsi io ho trattato e tratto diverse persone obese con risultati che avete visto. Tante altre hanno fallito e io mi sono sentito anche un po' in colpa. Perché le altre hanno fallito? Perché le persone obese falliscono? Per due ragioni. La prima non ammettono mai di avere un problema. Cioè loro vivono il loro sovrappeso, la loro obesità come un fatto. Io sono nato con i capelli, sono diventato calvo, per me è una cosa normale. L'altro giorno una persona ha fatto una consulenza con una mia assistente e mi ha mandato i saluti perché si ricordava di me che avevo i capelli ricci e lunghi. Vabbè, detto questo la vivono come una normalità, non come un problema. Cioè se una persona obesa capisce di avere un problema e si pone nella condizione di chiedere aiuto perché io ho un problema, già l'atteggiamento cambia. Seconda cosa, la persona obesa non può affrontare un problema, un percorso di cambiamento e quindi di dimagrimento e di ritorno alla salute senza un supporto psicologico. Se la persona obesa pensa presuntuosamente di ricevere un manoscritto, dattilo scritto, computer scritto, dove ci sono scritte le quantità di carboidrati da assumere, di proteine, di grassi, quanti pasti liberi, quant'acqua bere al giorno, senza un sostegno psicologico, il fallimento è assicurato e garantito. È necessario fare un percorso sinergico dove nel mio caso io mi occupo soprattutto dell'aspetto psicologico, quindi delle goal personalizzate, un percorso personalizzato. Ma tutte le persone che non hanno aderito a questo percorso, che hanno pensato di dire ma provo due mesi, vediamo come mi trovo, hanno tutte fallito. Ma non perché la strategia non abbia funzionato, perché come al solito manca un supporto fondamentale che è quello mentale. Senza di quello purtroppo non si arriva da nessuna parte. Fanno fatica anche le persone che devono perdere 5 o 6 chili a farlo senza un sostegno, senza un supporto. Figuriamoci chi ne deve perdere 50 o 60 che magari da 10, 20 o 30 anni combatte purtroppo con questa malattia. Noi siamo a disposizione per chiunque voglia avere informazioni, info chiocciolaclaudimazzone.com. Buona vita!